Calmare il mal di testa. Ecco 10 rimedi naturali. Per alleviare il mal di testa, dobbiamo tenerne presente l'origine e agire di conseguenza. Possiamo optare per rimedi orali o ricorrere a massaggi per minimizzare i fastidi. Tutti noi, da bambini o da adulti, abbiamo certamente sofferto di un forte dolore al capo, a volte insopportabile. Di certo ci ha fatto stare davvero male e ci sarebbe piaciuto sapere come calmare il mal di testa. Una delle cause più comuni del mal di testa o della cefalea può essere, eccessivo sforzo, fisico o della vista, stress insonnia, problemi di postura quindi sono disturbi molto fastidiosi e molto spesso possono causare vomito, diarrea e malessere generale. Tuttavia, il maggior rischio di un mal di testa è che si trasformi in emicrania perché in quel momento si presentano anche le odiose nausee. Si consiglia di intervenire il prima possibile per calmare il mal di testa. Come calmare il mal di testa? È abbastanza risaputo che esistono numerosi farmaci per calmare il mal di testa, come il paracetamolo. Tuttavia, non si consiglia di assumerlo regolarmente in quanto può causare sgradevoli effetti secondari. Il modo più efficace di alleviare il mal di testa è, rilassarsi, nel caso in cui esso sia dovuto allo stress. Mangiare, nel caso in cui sia causato da fame o da un abbassamento di zuccheri o potassio. Bere acqua, se è causato da disidratazione. A volte il mal di testa è talmente insopportabile che è necessario agire in maniera più appropriata per mantenerlo sotto controllo ed eliminarlo una volta per tutte. Oggi vi mostreremo 10 rimedi naturali per calmare il mal di testa. Rimedi naturali per calmare il mal di testa 1. Acqua calda Potete collocare una borsa con acqua calda sulla nuca o attorno al collo. Questa tecnica vi aiuterà a rilassare la tensione. Potete anche optare per una doccia con acqua tiepida e applicare dei sali di lavanda. 2. Ghiaccio Mettete alcuni cubetti di ghiaccio in un sacchetto chiuso e copritelo con un panno. Appoggiatelo sulla fronte o direttamente dove avvertite il malessere per circa 20 minuti. Questo rimedio è efficace e veloce contro il mal di testa, inoltre favorisce la corretta circolazione. 3. Bere acqua Come dicevamo, molto spesso il mal di testa è causato dalla disidratazione. Si consiglia di bere alcuni bicchieri d'acqua preferibilmente a temperatura ambiente. Assumete alimenti ricchi d'acqua come langure o verdure quali cetriolo e zucchine che ne contengono elevate quantità. 4. Riposare Per fortuna il mal di testa causato da stress e preoccupazioni può essere risolto semplicemente rilassandosi. Sdraiatevi in un luogo comodo o direttamente sul letto e riposate. Ascoltate della musica che vi rilassi o fate un riposino. Dormire aiuta il cervello a secernere ormoni potenti come quelli dei farmaci. Si tratta, dunque, di un rimedio molto efficace. 5. Camomilla La camomilla è una pianta ampiamente conosciuta per le sue proprietà antinfiammatorie. Ecco perché è ideale per calmare il mal di testa. Ingredienti 3 cucchiai di camomilla, 30 g, 2 tazze d'acqua, 500 ml, preparazione Portate l'acqua ad ebollizione e aggiungete la camomilla. Fate riposare per 15 minuti e filtrate. Modalità di consumo Bevetela durante il giorno accompagnata da un po' di succo di limone. 6. Massaggio Un'opzione molto semplice per mettere fine alle fastidiose cefalee è il massaggio. Potete massaggiare il cuoio capelluto, la fronte, il collo, le tempie, le ciglia e la parte sotto l'occhio. Premete levemente con la punta delle dita e controllate la pressione di cui avete bisogno per ottenere sollievo. 7. Essenza di lavanda Sin dall'antichità la lavanda è nota per essere un'efficace calmante. Infatti il suo olio essenziale è ideale per calmare il mal di testa in poco tempo. Aggiungetene 5 gocce a qualche olio, d'oliva o di mandorle ad esempio, e massaggiate il cuoio capelluto. Un'altra opzione è versare qualche goccia direttamente sul cuscino su cui riposiamo e dormire circondati dal suo aroma. 8. Olio d'oliva Infatti l'olio d'oliva è un grande antiossidante e impiegarlo per il mal di testa è un'opzione particolarmente efficace. Quindi assumetene due cucchiai al giorno e vedrete che il mal di testa ricorrente scomparirà. 9. Anguria Collocate un pezzo di anguria sulle tempie per circa 30 minuti. Ciò aiuterà a disinfiammare e, pertanto, a calmare il mal di testa. 10. Aceto di mele Ingredienti 1 bicchiere d'acqua 200 ml 1 cucchiaino di aceto di mele 10 ml Preparazione Adesso aggiungete un cucchiaio di aceto di mele in un bicchiere d'acqua a temperatura ambiente e ingeritelo. Anche se il sapore non è dei più gradevoli, si tratta comunque di un rimedio semplice per alleviare il mal di testa e le micranie. Grazie a tutti. Grazie a tutti.